ragazzi ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale sul tavolo vedere un bel po di cose soprattutto a grande richiesta in realtà di nessuno se non mia è tornato il cavalletto e sul cavalletto ragazzi eccolo qui la shield card di pedri veramente veramente stupenda oggi andremo alla ricerca ovviamente di altre shield siamo qui ad aprirci un eco value box il secondo perché nel primo eccolo qui abbiamo trovato cocaine limited edition gold oggi andiamo a vedere chi possiamo trovare all'interno sullo sfondo vedete un po quello che ho trovato e poi vi ricordo che in anteprima su tiktok e tra qualche giorno magari lo farò uscire anche qui per vedere come rispondete se vi può piacere ho comprato anche qualcosina di questa collezione delle eccole qui le turbo a tax che sarebbero presente le carte sulla formula 1 veniamo dal gp di gran bretagna o almeno io in questo momento registro da che veniamo da quel gpg p favoloso quindi magari fatemi sapere se volete vedere qualcosa anche di una collezione diciamo un po off topic oltre il calcio visto che su questo canale abbiamo portato sempre solo collezioni calcisie andiamo a vedere cosa troveremo all'interno 25 carte di cui una limited edition card con autografi internazionali una su 3.100 pacchetti card shield una su 24 abbiamo parlato anche troppo andiamo ad aprire il box ci siamo pacchetti tirati fuori che ho anche fatto un bel po di casino qua fianco allora due pacchetti con due card base più due card speciali che saranno gli inserti e poi quella con sei card inclusa la gold limited edition che ovviamente ci lasceremo alla fine cominciamo da questa pacchetti uguali quindi cominciamo da questa vediamo robertson holland cristiano ronaldo insomma andiamo andiamo codicino che vi potete prendere fatemi sapere davvero ragazzi sotto nei commenti se state facendo questo gioco e magari portiamo qualcosa magari me lo scarico anche io vi faccio vedere come non funziona isaac e poi abbiamo un international stars e poi abbiamo un'altra international stars ancora international stars questa volta è coleman dell'irlanda e poi abbiamo alip e poi abbiamo un giocatore corroato che è mateo kovacic poi international star baklic e poi abbiamo joao cancello bella questa e poi abbiamo oh ragazzi cristiano ronaldo doppio così fantastico fantastico già c'era uscito che tra l'altro non vedete sullo sfondo perché già l'ho messo alcune nel raccoglitore per non rovinarle fantastico il secondo cristiano ronaldo così veramente veramente ottimo e sotto troviamo una parallela viola della germania che è ademi fantastico ragazzi fantastico peccato questa cosa dei diritti ma veramente fantastico ottimo 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 siamo partiti subito con il botto cercare di superare questo pacchetto sarà complicato ma andiamo a vedere secondo pacchetto prima di andare a scoprire la leggenda ed è codicino intanto per voi e abbiamo allora culuseschi giordi alba poi abbiamo abbiamo o the guard abbiamo l'international stars o domenico berardi uno dei calciatori scelti per la nostra nazionale e poi abbiamo il giocatore greco e poi abbiamo pepe l'immortale pepe eccola qua l'international stars del portogallo poi abbiamo metti cash della polonia e vediamo chi abbiamo abbiamo sergio busche doppiona eccola qui che c'era già uscita e sotto abbiamo vediamo un po è sotto sopra il giocatore dovrebbe essere olandese ed è proprio così che è virgil van dyke bene dai non male ce le mettiamo qui per il momento dai non ci possiamo lamentare per questo eco value box e ora andiamo a scoprire la gold limited edition che si cela all'interno di questo boxettino ragazzi già vedo qualcosa di interessante innanzitutto questo è il codicino speciale per voi e abbiamo timo verner e abbiamo gli armolenco e poi abbiamo driss mertens e poi abbiamo abbiamo slatan ibraimovic bellissima questa peccato sia un po girato ragazzi scelta un po particolare comunque stupenda e la green e la green che è che è tipo di courtois non male non male e l'ultima che è della polonia e è ovviamente lui robertone levandoschi ragazzi davvero ottima secondo me una delle migliori che ci poteva uscire veramente veramente ottimo che dire ragazzi questo spacchettamento è andato veramente molto bene perché oltre la limited edition gold che sapevamo che sarebbe uscita però c'è uscita quella di levandoschi quindi davvero niente male abbiamo trovato una parallela green quindi ottimo poi abbiamo trovato cristiano ronardo e van dyke in quest'altra versione abbiamo trovato un margeo busche e abbiamo trovato anche ai demi in questa versione questa qui questa viola veramente veramente ottimo detto questo ragazzi mi raccomando ricordatevi di farmi sapere cosa ne pensate di questa collezione delle turbo attacks anche perché magari portiamo un bel video più completo oltre che i shorts e ragazzi a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che come sempre arrivate alla fine del video e noi ci vediamo nei prossimi giorni ragazzi già dopo domani lo sapete dai tre video a settimana più qualche porta qualche extra questa settimana anche quattro quindi mi raccomando voi supportate mi lasciatemi un bel like iscrivetevi e poi riceverete questi bei video questi contenuti che spero vi piacciono e apprezzate ciao ragazzi buona giornata ciao 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 ciao